La notizia è destinata a suscitare malumori e proteste. È datata 12 agosto l'ordinanza della provincia firmata dal presidente Domenico Gambacorta con cui viene autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti umidi della provincia di Avellino nell'impianto STIR di Piano Dardine. Rifiuti che non saranno lavorati, almeno non per ora, soltanto stoccati in capannoni in attesa di partire alla volta di Padova. Stamane i primi conferimenti sotto lo sguardo del manager di Irpini Ambiente Boccalone e dei funzionari dell'ARPAC. Ma da cosa scaturisce il documento che autorizza in via temporanea trasferenza e stoccaggio dell'immondizia? È l'ordinanza a spiegare che tre aziende private che operano a Serino, Manocalzati e Montefredane si sono rese indisponibili ad accogliere la frazione umida o per ferie o perché la loro attività è stata temporaneamente sospesa dalla regione o dai comuni per irregolarità. Il risultato è il via libera, la lavorazione di 100 tonnellate giornaliere di rifiuti umidi nei capannoni dell'ex CDR per 45 giorni o anche meno se si troveranno altre aree disponibili. I caratteri eccezionali e temporanei dell'ordinanza tuttavia non convincono. Ieri i manifesti funebri sciocchi e l'annuncio dei familiari della scomparsa del loro caro dovuto alla Valle dei Tumori. Oggi rispetto all'ordinanza di Gambacorta annuncia ricorso al TAR Franco Mazza del Comitato Salviamo la Valle del Sabato ed esponente di medici per l'ambiente. L'organico va stoccato in luoghi isolati e non sotto il naso di migliaia di cittadini e il commento a caldo che interpreta un sentimento diffuso degli abitanti della zona. C'è poi il timore che la regione abbia concesso il via libera all'impianto di biodigestione dell'umido presso lo STIR e che quelle in corso siano prove tecniche di futura lavorazione. I comitati hanno preannunciato una pubblica manifestazione di protesta per interessare la prefettura e la politica del caso. La magistratura intanto prosegue il suo corso cercando riscontro alle denunce per morti dovute ad inquinamento ambientale del nucleo industriale.